Allora, questo è un filmato dedicato a tutti voi che avete cercato di dissuaderci in quest'ultimo periodo da quando abbiamo deciso di partecipare alla Funtime Treffen. Sì, è una cosa impegnativa, è una cosa difficile, è una cosa che pare oltre la nostra portata, però nella vita di tutti noi arriva un momento in cui siamo ispirati. Le persone più virtuose, quando sono ispirate, arrivano a toccare grandezze incredibili, arrivano a lasciare un segno non solo nei familiari e negli amici, ma in tutta una società. Noi siamo stati ispirati diversamente, era una notte, tardo pomeriggio, una sera di aprile quando sfogliavo sbogliatamente internet e sono stato fulgorato dall'idea Elephant and Treffen e ho deciso di coinvolgere degli amici, però volevo rassicurare tutti quanti che, e vi ringrazio per i messaggi in quest'ultimo periodo di apprensione, di affetto, che noi non siamo assolutamente impazziti, non siamo impazziti per niente. E invece, siamo solo fortuitamente ispirati. MDT, 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 MDT.